L'ultima dunque di una lunga serie di manifestazioni oltre 2.500 d'ottobre ai giorni nostri con l'appello del ministro dell'interno Lamorgese che dice lo Stato c'è ma evitare che le manifestazioni vengano strumentalizzate. Il governo sta fronteggiando la crisi, non tollereremo violenze. La ministra dell'interno Luciana Lamorgese tra le mura del Viminale guarda i dati delle manifestazioni degli ultimi mesi in Italia e in un'intervista al Corriere della Sera fa i conti con numeri che generano allarme. Da ottobre 2020 a martedì scorso in Italia ci sono state 2.554 manifestazioni e questo fa riflettere sulla crescita del disagio sociale. Dall'altra parte c'è la considerazione che solo in 54 casi c'è stato bisogno dell'intervento della polizia. Ma poi ragiona anche sull'altro versante, quello di chi usa la violenza. I responsabili dei disordini verranno individuati, non possono essere tollerati i comportamenti irresponsabili, puntualizza con riferimento ai disordini di pochi giorni fa in piazza Montecitorio dove la maggior parte ha però manifestato pacificamente ed è a loro che la ministra manda un messaggio di vicinanza. Lo Stato c'è e faremo di tutto per fronteggiare una crisi che colpisce famiglie ed imprese. Insomma è necessario monitorare con attenzione tutti i segnali di insofferenza e disagio alimentati da una crisi economica lunga, evitando che questo disagio serpeggiante possa poi degenerare ed essere a sua volta strumentalizzato. Per questo dobbiamo restare uniti, aggiunge la Lamorgese appellandosi ai cittadini, ai politici e ai personaggi pubblici. Le attività economiche sono in difficoltà ma il governo è impegnato su tutti i fronti per fornire risposte. Due, conclude la ministra dell'interno, le direttrici su cui muoversi, spirito di coesione nazionale e ricifroca solidarietà.